È stato un'estate dai grandi numeri per la perdonanza celestiniana, soprattutto con oltre 30.000 presenze, turisti da ogni parte d'Italia, pienona di spettacoli e attività che hanno lavorato. Da dieci anni ormai l'appendice dell'estate di eventi aquilani è il jazz italiano per le terre del sisma. Sabate e domenica la città si è riempita di street band e spettacoli in varie piazze e vie, con oltre 20.000 presenze spalmate nei vari appuntamenti. L'Aquila così si prepara alla sfida del 2026, quando sarà capitale italiana della cultura. Ora, sfida importante, ma la città in grandi eventi, basti ricordare la visita di Papa Francesco, si è sempre fatta trovare pronta. Certo, bisognerà fare sempre di più, ma i presupposti ci sono. Bisognerà incrementare i servizi per chi verrà, ma la proposta culturale di certo sarà ampia, perché già ci si sta lavorando da un pezzo. Siamo al lavoro, è vero che l'affluenza turistica è sempre un dato aggregato. Faremo i conti, quelli veri, a fine stagione, ma possiamo restituire, per esempio, un dato importante era il nostro Infopoint, con un turismo che comincia ad essere di qualità, nel senso che gli utenti scelgono di visitare l'Aquila, perché hanno capito e iniziano finalmente a conoscere la proposta turistica dell'Aquila, che è integrata dal sistema museale a questi eventi culturali. E poi dobbiamo anche riscontrare che l'Aquila capitale della cultura 2026 si sta rivelando anche, e non solo naturalmente, una scelta di marketing turistico molto felice. Sappiamo quindi che può essere un volano con ricadute importanti per il turismo e sulle imprese locali, e su questo siamo impegnati a lavorare.